Grazie a tutti. Anche il tacco di ventola può andare dentro, ma non va dentro. Speriamo che sabato va meglio. Tu hai conosciuto Camonese per pochi giorni perché sei stato con la tua nazionale. Che impressione ti ha fatto anche dal punto di vista umano? Mi ha fatto un buon'impressione perché parla tanto con i giocatori e prova di dare una mano a tutti. Secondo me fa bene fino adesso e speriamo che continua così. Anche noi giocatori dobbiamo dare una mano a lui. Siete adesso avete otto partite alla fine, avete quattro partite in casa, forse con quelle in casa che bisogna ottenere i successi e poi magari fare qualche punto fuori casa. Ma in casa Catania, Siena, Bologna, Genova, lì bisogna costruire la salvezza, no? Sì, è chiaro che 12 punti ci serve. Se ci crediamo possiamo farlo. Io credo nella squadra come tutti. Secondo me quattro partite in casa dobbiamo vincere. Se guardiamo in transferta, se prendiamo punti, non è impossibile. In Serie A è tutto possibile, anche in transferta, anche con Milano o in Firenze abbiamo già vinto una volta. Tu dicevi, ti hai detto dopo Genova, il Toro a due facce, sempre la frase storica. E soprattutto ti arrivi al fatto che in casa è una squadra molto aggressiva, molto pugnace e bisogna, già da sabato con il Catania, no? La squadra scende in campo e vince a tutti i costi. È chiaro che sabato è una partita fondamentale per noi perché può cambiare tutto ma può anche diventare tutto più difficile. Se non vinciamo, se non facciamo una buona partita diventa duro per noi e noi dobbiamo fare tutto per vincere questa partita perché possiamo farlo e dobbiamo farlo. E di qui siamo giocattati dalle tue maglie, sei nel Granata Store, c'è tanto affetto da parte dei tifosi del Torino, abbiamo visto appena si è uscito dalla macchina, già ti hanno chiesto fotografi, sei diventato l'idolo. Tutti i tifosi del Toro ti amano, però hanno anche paura che tu a fine stagione possa andare via. Vogliamo ancora una volta tranquillizzare i tifosi che tu qui stai bene e vuoi stare comunque a tutti i costi, anche se sono anche tante offerte su di te. No, a me mi interessa cosa c'è adesso, adesso c'è sabato la partita contro il Catania e dopo ci sono sette partite, mi interessa solo salvare il Toro. Che succede dopo vediamo, ma adesso è importante il Toro. Grazie mille.